A fine gara Bosto Varese-Cornaredo abbiamo con noi per Canicacci TV Web coach Gino Fucci. Coach, nonostante una buona partita di Cornaredo, una scoffitta alla fine pesante sul punteggio, ma non sicuramente sul piano del gioco? Bah, se l'avete vista così va bene. No, per noi siamo ancora nel piano marasma e dobbiamo lavorare tantissimo. Abbiamo preso tre partite a 90 punti, evidentemente la nostra difesa non è assolutamente improponibile. Sono ragazzi giovani, l'unica cosa che posso auspicare è un miglioramento, lavoreremo tantissimo sulla difesa e via, niente di più. Abbiamo tanto da lavorare, fortunatamente abbiamo preso tre squadre di alto livello all'inizio, quindi ci ha fatto capire dove siamo e adesso dobbiamo già andare a Garbagnate, dobbiamo per noi già battaglia. Quindi spero che ci sia una risposta, almeno dal punto di vista difensivo, più idonea. Diciamo che questa sera comunque buona risposta da parte dei tanti giovani in campo, tanti minuti, bene considerato comunque l'anno zero di Cornaredo. Sì, è stato gioco forza con delle rapide rotazioni proprio perché abbiamo approcciato male la partita e quindi abbiamo cercato subito di tamponare, quindi ho cercato nel fondo della panchina chi era più presente. Va bene, grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie.